Musica Sono appena arrivato, non so nulla, come sempre c'erano i centri sociali, i compagni, chiamateli come volete, Black Block, Zecche, fatto sta che erano qui alla nostra manifestazione e le forze dell'ordine erano qui schierate, li hanno visti arrivare e non hanno fatto nulla, anzi hanno caricato i nostri ragazzi solo perché hanno cercato di respingere, tutto qua. Musica Musica